Come vive questo momento? Molto tragico, triste, però lo faccio, cerco di sforzarmi, lo faccio per loro, per giustizia. È stato un anno complicatissimo? Molto, ma quelli che verranno saranno peggio, penso, però ho determinazione e forza. La forza e anche il tanto credo religioso hanno permesso di portare avanti questo dolore tremendo. Questo senza dubbio, perché se non c'è un credo, una fede, non si riesce a sopportare un dolore del genere. C'è un marito e un figlio, è troppo grande il dolore. Adriana è il simbolo dei familiari delle vittime di Pianello di Ostra. Nonostante il suo dolore immenso per la perdita del marito e del figlio, è lei a dare la forza a tutti. Adriana ha guidato la fiaccolata e la serata lucida al fango, in memoria dei 13 morti dell'alluvione che, in modo composto e silenzioso, ha percorso a Pianello le vie del tormento, della sofferenza, della desolazione, della tribolazione e della disperazione. Dietro ai familiari, in mezzo alle circa 1500 persone del corteo, anche il governatore Acquaroli, diverse autorità regionali e sindaci del territorio. In via ex arciviese, nel Palazzo della Morte, anche un cuore dedicato a tutti i familiari delle vittime. Romina, che effetto fa a trovarsi qui oggi? Dolore, molto dolore. È un momento molto critico. Il dolore è troppo forte. Vedere gli altri familiari delle vittime, incontrarli nello stesso momento, è un effetto veramente particolare. Io non riesco a guardarle negli occhi. Infatti starò con la mia testa bassa, con i miei pensieri, ma spero che in questo momento ci sia tanto amore, ma in tutta la comunità. Dopo la fiaccolata, al campo sportivo La Messa, preseduta dal Vescovo di Senigallia, concelebrata dai Vescovi di Fano, Fabriano e Gubbio, è con la presenza dei sacerdoti del territorio. Celebrazione che, in spirito di comunione, è stata trasmessa in ogni comune della regione colpito dalla tragedia. Il Vescovo di Senigallia, non nuovo a forti appelli, ha lanciato dall'altare l'ennesimo monito, rivolgendosi alle istituzioni affinché mettono in sicurezza i territori. Quello che è successo in quei giorni non deve più succedere. Quindi chi ha responsabilità della cosa pubblica, della gestione del territorio, veramente deve, lo deve, lo deve alle persone, lo deve alle vittime, lo deve ai loro cari, alle persone che abitano questi territori, mettere in sicurezza il territorio. Perché vuol dire mettere in sicurezza la vita delle persone. Anche alla celebrazione religiosa, le autorità hanno partecipato sedendosi nelle postazioni secondarie. In mezzo alla folla, pure l'assessore alla protezione civile Aguzzi e il capogruppo di Fratelli d'Italia Carlo Ciccioli, che in passato aveva espresso parole che avevano suscitato reazioni dure. A Pianello è arrivato pure il messaggio della Premier Meloni, che ha espresso la propria vicinanza e l'auspicio di essere presso nelle marche con gli alluvionati. Lacrime e tanta emozione anche da Trecastelli, dove un'altra fiaccolata ha attraversato le vie del paese, richiamando tanta gente nel ricordo di Maria Luisa Sereni, vittima di Passoripe. Una notte piena di emozione, quella di Pianello, esattamente come era accaduto poco prima a Barbara, altro paese martoriato dall'alluvione, dove il sindaco Riccardo Pasqualini, vicino a Simone, figlio di Brunella Chiù e Silvia Tiziano, genitori di Mattia Lucconi, ha introdotto il lancio di fiori, quattro rose bianche ai parenti delle vittime e tredici garofoni viola divisi tra sindaco e bambini. Toccanti e dritti al cuore le parole del primo cittadino, il fiume torni ad essere il fiume della vita e non della morte. Toccanti e dritti al cuore le parole del primo cittadino,